Sono tornati ad Adrano i delinquenti della spaccata. Questa volta è stato preso di mira lo studio fotografico Burzilla di Piazza San D'Agostino. Intorno alla mezzanotte, ignoti balordi hanno lanciato un'autovettura, pare una Fiat Uno, contro lo studio, mandando in frantumi la vetrata e creando un varco all'ingresso. Una volta dentro hanno preso il registratore di cassa, con all'interno pochi contanti e si sono allontanati. Ad agire sono state almeno in tre. Scattato l'allarme sul posto è giunta immediatamente una pattuglia dei carabinieri, ma i malviventi avevano già fatto perdere le loro tracce. L'irruzione è durata, pochi secondi. Sul posto anche gli agenti del commissariato di polizia di Adrano, al vaglio degli inguirenti le immagini delle telecamere di sicurezza dello studio. I danni maggiori per il proprietario dello studio sono i costi piuttosto notevoli che adesso dovrà sostenere per ripristinare la vetrata. Non è la prima volta che questo studio fotografico subisce un furto del genere. Era accaduto anche diversi anni fa. Alla famiglia Burzilla, gente per bene che opera ad Adrano nel campo della fotografia da diverse generazioni, attraverso la nostra pagina Facebook, in tanti hanno manifestato affetto e solidarietà.